Questo è il jazz il jazz è questo il jazz è una maniera di esprimersi il jazz si chiama jazz di esprimere un genere ed è un genere di linguaggio che rassenta il jazz arriva in Italia almeno tanti anni fa e subito dopo arrivo a bari grazie a tanti artisti che si sono seguiti già che deriva dal SUS e tutto questo devo dire grazie a billy jefferson henry savelletri richard urizius sony cuttersfield barry newton garcia batley e tomas la volta la febba c'è visto scusate ma scusate non risponde pronto gina ho fa registrare fa fare il disco ma è un buon'altra cosa signora scusate non mi devi chiamare mai scusate per fare il jazz ci vuole pazienza non è che una mattina si alza e fa il jazz scusate scusate per la gina gina va gina e sta dicendo non è che una mattina si alza e per fare il jazz ci vuole tre cose importanti primo molta professionalità secondo molta memoria terzo terzo madonna mi ricordo e siccome noi a bari abbiamo queste facoltà e allora anche noi possiamo fare il jazz bari bari si presta perché a bari fanno quelli che dicono che mangiamo oggi che domani si si è una fredda a bari a bari fanno quelli che dicono che la differenza tra le donne e le banche e che le banche sono stanno chiusi a bari se dici cielo grigio su cielo grigio giù tutti se lo guardano per vedere di che colore è allora a bari ci stanno quelli che mettono le mani avanti per non cadere stone 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 a bari c'è una giunta comunale che è indecisa a tutto stone 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 aiutateci a togliere la droga dalla strada bucati vale castro most bucati al tempo bucati 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 Grazie a tutti